Salve a tutti da Vittorio Cassinesi, sono in compagnia del grande Claudio Claudio Precchiazzi del bacio nero Trani in via delle crociate a numero 495253 a Trani vicino alla inchiesta della Madonna del Pozzo insomma, Trani vi aspetta per un grande appuntamento venerdì 11 ottobre primo appuntamento di Serata Karaoke Serata Karaoke con il suo Vittorio Cassinesi non mancate assolutamente un menù di 10 euro un menù di 10 euro semplicissimo con un antipasto per questa volta mettiamo anche un primo e poi ovviamente caffè pochino d'acqua va bene, c'è da divertirsi venga venerdì 11 a fare il karaoke si canta, ci si diverte presso bacio nero a Trani primo appuntamento di altri 4 che possiamo vedere, ecco, guardiamo 18, 25, 8 e 15 18 ottobre segna, segna segna venerdì 8 novembre 15 novembre ricordate per prenotazioni ma fatelo subito prenotatemi il numero è 0883-198-5710 oppure camate Claudio 3 whatsapp anche 0884-4396 e ovviamente bacio nero naturalmente in diretta con Radio Show Vittorio Cassinesi vi aspetta oh mi raccomando venite tutti che ci divertiamo intanto è andata bene la prima la seconda la terza la quarta parliamo sicuramente del botto poi direi che la location permette o no mi raccomando Vittorio pure permette anche Vittorio salutiamo un abbraccio vi aspettiamo numerosi grazie